Vi mostrerò in questo video uno dei tanti, tanti esempi che possiamo fare del modo di citare da parte dell'attore di guardia stralci di enciclopedie, di dichiarazioni di studiosi, facendo dire al testo quello che il testo in realtà non vuole dire o perlomeno nascondendo una parte del discorso. Lo vediamo ad esempio in questa pagina del sito gv.org dove viene affermato molte confessioni cristiane insegnano che Dio è una trinità, in realtà qui sta dicendo anche qui un'affermazione non del tutto esatta perché tutti i cristiani hanno come base della loro fede ed è una discriminante tra cristiani e non cristiani il fatto che Gesù sia Dio e quindi poi abbiamo proprio la dichiarazione di fede nella trinità di tutti i cristiani. Possono esserci modalità diverse nella concezione della trinità, questo sì, però allora me lo dici in un altro modo. Sembra che alcuni cristiani non credano nella trinità, no, loro sono gli unici che non credono nella trinità e infatti non sono cristiani. Eppure dice, nota cosa dice l'enciclopedia britannica, nella parola trinità, nell'esplicita dottrina compare il Nuovo Testamento. Puntini, puntini. La dottrina si sviluppò a poco a poco nel corso di diversi secoli attraverso molte dispute. Anche qui, vero e non vero, l'insegnamento delle chiese, della grande chiesa, quindi delle chiese cristiane sulla trinità, ha fondamento biblico sì o no? Sì, questo è il punto fondamentale. Cioè la trinità ha un fondamento biblico. La parola trinità, che fu inventata da Tertulliano, esprime in una parola quel concetto che troviamo implicito in diversi passi dell'Antico, qualche riferimento ci può anche essere, forse nell'Antico, ma del Nuovo Testamento, certamente. Allora, questo è il punto. Cioè, c'è richiesta implicitamente, nei certi passi del Nuovo Testamento, la dottrina della sua trinità? La risposta è sì, sì, non sono cretini tutti gli altri cristiani, o meglio, tutti i cristiani, quando affermano questo. Tant'è vero questo, lo conferma lei stessa, sapete perché? Perché? Perché, andiamo a vedere cos'è che si è preoccupata di non citare in questi puntini dell'Enciclopedia Britannica. Andiamo a vedere. Non ha citato proprio quello che io ho appena espresso con le parole mie. Ma l'autore dell'articolo, della voce Trinity, in Enciclopedia Britannica, diceva una cosa importante. I primi cristiani, tuttavia, continuava qui nella parte non citata, dovette affrontare le implicazioni della venuta di Gesù Cristo, della presenza e potenza di Dio in mezzo a loro, cioè lo Spirito Santo, la cui venuta era collegata alla celebrazione della Pentecoste. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo erano associati in passaggi del Nuovo Testamento, come nel caso del Grande Mandato. Andate dunque a maestrare tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E nella benedizione apostolica troviamo la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Vedete, nel Grande Mandato, quello che viene definito poi, a volte il Grande Mandato, non abbiamo i nomi del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ma nel nome, nell'unico nome, tra l'altro qui, chiediti, testimoni di Jehovah, che cosa significa nome, vedete? Quindi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome al singolare. Che tu possa essere d'accordo o no con questa lettura di certi passi, appunto, che hanno implicito, hanno implicita la dottrina della Trinità, a me riguarda poco, ma se tu non mi citi questo passo, fai dire all'autore dell'articolo quello che non voleva dire, e lui ti sta dicendo, sebbene non sia presente la parola Trinità del Nuovo Testamento, abbiamo le basi della dottrina implicita in alcuni passi biblici. Cioè, questo non sta riportando proprio quello che è l'intenzione dell'autore. E questa è la stessa cosa che è successa quando, nella voce dell'eciclopedia del dizionario di greco Lemonier, non fu citata nelle varie diciture della definizione di Xylon, croce, Nuovo Testamento. Quella voce è stata tolta, ma il dizionario portava la definizione croce, virgola, Nuovo Testamento, come traduzione possibile di croce, di Xylon, scusate. Quindi, cosa vuol dire questo? Che tu vuoi far dire al dizionario, anche in quel caso, quello che l'autore di quella voce non voleva dire. Puoi essere, ripeto, d'accordo o meno? Dice no, la mia visione teologica dice che quei passi biblici, in questo caso, non fanno riferimento a nessuna unione di natura, no, non c'entra niente, cioè la Trinità, non si può definire nessuno della Trinità nel Nuovo Testamento. Puoi anche non essere d'accordo, però tu mi fai il favore di citare le fonti della loro interezza. E proprio perché sapeva che questo passo non poteva essere citato nella sua interezza, che lo ha decurtato con i puntini. Grazie sempre della vostra attenzione.